La lotta al terrorismo la si faccia anche mettendo delle risorse, vede, le inchieste di Brescia o anche altri tipi di inchieste hanno successo perché abbiamo intelligence efficienti, perché abbiamo procure che si muovono con capacità, abbiamo le forze dell'ordine, se noi non mettiamo risorse, se non diamo le nostre forze dell'ordine, strumenti, risorse e mezzi per continuare a perseguire il terrorismo, io credo che difficilmente potremo continuare ad avere risultati come questi. La cittadinanza, la cittadinanza è fondamentale, attenzione la cittadinanza non è lo strumento per integrare, la cittadinanza è l'approdo finale di un processo di integrazione e il fatto che le persone arrestate, fermate e reclutate siano cittadini italiani dimostra che la cittadinanza viene data con eccessiva e troppa facilità. L'ultima considerazione che faccio, 63 mila i richiedenti asilo presenti nel nostro paese, il dato è del 2014, 63 mila richiedenti asilo, 170 mila persone sono sbarcate, vuol dire caro senatore e latore che ci sono 101 mila persone, 101 mila e tra questi ci potrebbe essere, basta che ci sia semplicemente un lupo solitario che si fa saltare per l'aria. Anche se diciamo che molte queste persone come lei sa benissimo sono andate via dall'Italia, no? Non sappiamo quanto però, l'unico dato certo è che ci sono 101 mila persone che non sono identificate, che nessuno sa chi sono, che nessuno sa qual è la loro storia personale e soprattutto che nessuno sa se ci sono il loro casellario giudiziario e quindi con il rischio che siano particolarmente pericolosi.